Con la bandiera tricolore al vento è cominciata la 35esima edizione della Gommonata europea da Pordenone al mare. La manifestazione del diporto nautico internazionale organizzata dall'Associazione Gommonauti Pordenonesi, come da tradizione, nel terzo weekend di settembre, in collaborazione con il Comune di Pordenone. Grazie all'Associazione Gommonauti Pordenonesi del Presidente Solarino, anche quest'anno si rinnova una tradizione da Pordenone, la partenza della Gommonata, che arriva fino a Trieste e che quest'anno è dedicata al 150esimo dell'Unità d'Italia. Volevo ringraziare l'Associazione proprio per il contributo che ha dato anche quest'anno, anche in termini di lavoro di pulizia dell'asta del Noncello, in particolare proprio per rendere questa navigazione più sicura possibile. Una manifestazione importante per la città che rinnova un'altra tradizione e dopo l'inaugurazione che abbiamo fatto di recente con l'inaugurazione del pontile presso la fiera, migliora il rapporto che la città ha col suo fiume, il fiume Noncello. Quindi grazie Solarino per tutto quello che state facendo e per la 35esima edizione dedicata al 150esimo dell'Unità d'Italia. Quest'anno l'apprezzata Kermesse salpa in direzione di Trieste, in uno speciale riconoscimento che la nuova era tra le manifestazioni che celebrano il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Al nastro di partenza, all'imbarcadero di Pordenone, oltre 40 gommoni provenienti da diversi paesi europei, tra cui l'Olanda e la Germania, con la rappresentanza di tutte le regioni italiane. È una manifestazione che ormai si ripete consecutivamente da 35 anni. Quest'anno possiamo aggiungere che abbiamo il pregio e l'onore di essere stata inserita nel contesto delle manifestazioni che si freggiano del logo dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E non a caso appunto è la gommonata del 150ennario dell'Unità d'Italia. In forza a quanto abbiamo scelto anche una località prestigiosa italiana, che è di Trieste, dove si affaccia a una delle più belle piazze del mondo, mi permetto, che è Piazza Unità d'Italia. Per cui i 150 partecipanti e le 40 ed oltre imbarcazioni ormeggeranno tutti in Piazza Unità d'Italia.